Buongiorno bambini, secondo voi si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Ci proviamo! Oggi leggiamo Orso, buco. Orso si è perso e non trova più la sua tana, allora si mette in cammino. E all'improvviso... Badabum! Casca in un buco. Ma è la tana di volpe! Orso e volpe iniziano a camminare alla ricerca della tana di orso. Attraversano il bosco. E all'improvviso... Badabum! Spatapam! Cascano in un buco. Ma è la tana di rospo! Orso, volpe e rospo iniziano a camminare alla ricerca della tana di orso. Attraversano il fiume. E all'improvviso... Badabum! Spatapam! Bidibong! Cascano in un buco. Ma è la tana di formica! Orso, volpe e rospo iniziano a camminare alla ricerca della tana di orso. Attraversano il deserto. E all'improvviso... Un elefante. Vi siete persi? Dizze. Presto! Tutti in droppa! Allora... Tump! 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 Marzano nel deserto. Poi... Sguap! 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 Guardano il fiume. E ancora... Zig! 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 Zizzagano per il bosco. Ma all'improvviso... La tana di orso! Tutti dentro! Badabum! Spatapam! Bidibong! Tic! Finalmente a casa! Orso, volpe, rospo e formica fanno festa. Ma l'elefante dov'è? Non passo dal buco! Ciao bambini! Buon fine settimana!